Ok, vabbè, allora devo continuare a tirare, ho capito? Eh no, adesso ti sei interrotta l'azione. Ok, ok. Cioè nel senso, adesso io ti avevo fatto l'opposizione, quindi adesso è il tuo turno e se vuoi puoi continuare a fare qualcosa o cercare di risolvere il problema dell'educazione. Cioè cercare di risolvere il problema di? Dell'educazione che ti avevo presentato. Dell'educazione. Perché tu ti sei messo a muovere gli operai in senso politico, però c'era anche un problema proprio che questi erano operai non specializzati. No, ma il punto è che proprio li rimpiazziamo proprio a Coco, ok? Cioè praticamente qui abbiamo il problema della rete idrica che per metà vedo che è tipo blinkeggia di rosso, figuriamoci. No, 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 hai fatto venti, hai venti, venti di salute significa che hai fatto già grandi progressi in quel campo. Figuriamoci costruirci delle scuole sopra, va bene? Vabbè, ma non è solo... Però sai che cosa, probabilmente sai che cosa, posso cercare di instaurare comunque, visto che sto facendo una cosa che è poco produttiva, nel senso che sto facendo mandare magari via specialisti, tipo sai, che sono importanti, che potrebbero aiutarmi, ma li sto facendo andare via perché hanno le idee sbagliate, vabbè, le affiliazioni sbagliate. Effettivamente forse le persone che sono qui, che però hanno le idee giuste, magari non le capacità, bisogna formarle. E dunque un programma di formazione lo faccio, ok? Come lo strutture? Eh, tipo learn by doing, ok? Praticamente un apprendistato, dove letteralmente uno specialista di quelli rimasti competenti e dalle idee giuste, insegna a cinque altri che non hanno la capacità come fare. Perché proprio battono le ossa sulle ossa, insomma. Mentre lavorano ovviamente, dunque immagino che potrebbe succedere anche qualche incidente, ma vediamo, ok? Vai, vai, tira. Oh, boom, dieci. Dunque sembra funzionare questa cosa? Sì, sì, inizialmente sembra funzionare, poi non so quanto Kelly ci vuole investire. Ah, io voglio andare avanti finché posso. Ecco, se tu adesso ti usi la bugia, il sette non lo conti, però il dieci lo tieni. Ok, no, io metterai il dieci comunque. Ok, quindi la balla la spari. La balla la spara sempre Kelly, perché la balla non costa niente. Eh, insomma. Dimmi che cosa succede, perché c'è questo problema. Eh, questo problema in realtà sorge dal fatto che questo learn by doing non funziona molto bene quando si ha a che fare con grossi macchinari pesanti che devono estrarre acqua. Cioè devono estrarre ghiaccio che poi deve essere trasportato tramite una ferrovia, è disciolto e tra l'altro desalinizzato, credo. E purificato in qualsiasi caso. Nella, sotto la calotta di vetro, insomma, della colonia. E quindi, cioè, comunque i casini continuano a succedere. Sì, sì. Ed è una spesa di tempo, perché ci sono molti ritardi nella, insomma, nel sistema idrico che per quanto vada comunque non riesce ancora a lavorare al 100% per la città, cioè per la colonia. E te la butto sul personale. Ok. Un giorno mentre stai tornando su, sono passati diversi mesi in verità, mentre stai tornando verso i tuoi appartamenti, ti ritrovi a, a un certo punto ti ritrovi davanti alla porta, Alvaro. Ok. Lo guardo come se io fossi un fantasma. Eh, sono passati mesi, quindi immagino che hai cominciato, mi inizi anche un po' a manifestare i segni della... Sì, sì. Sai che cosa? Lo faccio entrare. Mi guardo intorno. Ovviamente è una bruttissima idea. E poi lo faccio entrare. Lo faccio entrare, saliamo al mio piano con il turbo ascensore. La cosa positiva è che forse... Aspetta, aspetta, ma il turbo è quello in cui dici il piano o è quello a cui ti attacchi alla manetta? No, no, è quello in cui dici il piano. Ah, no, porca miseria. Vivo nel quartiere leggermente più serio, va bene. Ok. Queste cose magari succedono appunto nel controllo ambientale, infatti me lo fa notare. Ah, di lusso ti va proprio. Sì, sì. Nel turbo ascensore. Niente manetta, eh. E poi entriamo nel mio appartamento e gli dico, sì, però ci vivo anche nel turbo ascensore, perché è piccolo, ok? È letteralmente tipo un monolocale. Sì, sì, ed è una roba da ricchi, qui. Esatto. Un monolocale con una grossa vetrata che fa vedere questa skyline sotto la bolla di vetro che sta comunque crescendo, va bene. È l'ennesimo maglev che torna indietro con un grosso cosone di ghiaccio sopra. E se lo porta... Però si blocca sulla pista e ci sono problemi. Tipo pezzettoni di ghiaccio scivolano giù dal maglev. Lei ignora questa cosa, si gira via e incomincia a prendere due bicchieri e ci versa dentro il whisky. Ma sarà il caso che bevi, Kelly? E lei lo guarda interrogati a me. Ma che cazzo stai dicendo? Alvaro guarda la pancia. Mi sembri... Come dire... Preoccupata per il futuro e ovviamente indica fuori dalla finestra. Beh... Se continui a berci sopra... Ah, lei sta già bevendo, eh? E non, infatti. Senti, non ci siamo visti da anni? Non ci siamo visti così? È di mio fratello, almeno. E lei non lo sa, dunque... Non gli risponde. Semplicemente fatti intinare il ghiaccio. Ha del ghiaccio, ok? Se c'è una cosa che abbiamo tanto è il ghiaccio. Sì, sì. Sarà pure ghiaccio salato, probabilmente. Senti, sarei voluto passare prima. Ma non è così facile. Vabbè, ti perdono. Mi tengono chiuso là sotto. A volte mi sembra l'impazzire. Hai cambiato un po' d'aria, dai, Rodriguez. Fossi stato meno idiota, non mi sarei fatto incastrare. E lei fa... Potrei dirlo anch'io, guardando fuori vagamente. La guarda e fa... Comunque anche sotto si sente il chiasso che stai facendo, eh. La gente si lamenta, però... Meno che con altri. Ma di che cosa si lamenta la gente esattamente? Sai come sono le persone, no? Non c'è abbastanza da mangiare. Non c'è abbastanza da bere. E qui si lavora e non ci si diverte mai. E mio figlio, dove lo mando? Questi ragazzini crescono come bestie. A chi lo dici? Non ci si diverte mai. E si avvicina predaturiamente. Non so che è incinta, ma non se ne frega niente. Lei è un mostro, questa gallina. È un animale da combattimento, porca miseria. Oh, oh, oh. È mio fratello? No, non è di tuo fratello. Ovviamente non lo sa. E poi lo spinge indietro e... E si chiude il cerchio della vita. Non so. Ok. State la mattina dopo o quanti giorni dopo, non so. Cioè, il bello è che non so cosa mi voleva realmente dire, tranne che c'è malcontento. Dico, dimmi qualcosa di nuovo, ok? Però, vabbè, ma comunque la scena personale in realtà ti fa calare nei panni di questa tizia che è esaurita da questo compito assurdo che le è stato affidato. Ma infatti la cosa che ha fatto era per zittirlo, un po' come ha zittito Roger, va bene, nella sua vita personale. Eh sì, è lei che comanda proprio. Che tra l'altro non gli sta più parlando, va bene. Ah, Roger? Eh sì. Madonna che dolore, mi fa male il cuore quando mi dici certe cose, va bene. Eh, l'ultima cosa che gli ha detto è appunto non venire qui, stai dove sei, non crearmi altri problemi. Tra l'altro mesi fa, perché prima ho introdotto, dopo mesi. Ok, quindi mesi fa, benissimo, quindi telefonate attaccate così, bello. No, ma neanche prese a un certo punto. Ok, grande Kelly, vai. Eh. Vabbè.